In questo numero di motori magazine, in 2023 si annuncia come un anno pieno di novità per il settore. Mercedes protagonista sulle nevi delle Dolomiti. Così i sensori stanno cambiando l'automotive. Sono centinaia le novità che attendono gli appassionati di auto nel nuovo anno. Partiamo dalle piccole, dove la più attesa è la nuova Renault R5 con le sue linee vintage, ma ora full electric. L'utilitaria degli anni 70 avrà una potenza di 136 cavalli e un prezzo che dovrebbe superare di poco i 20.000 euro, ovvero un terzo in meno della Zoe che va a sostituire. Nuove batterie e nuovi accumulatori assicureranno un'autonomia di 400 chilometri. Fu una macchina da rally, oggi è anche comoda da utilizzare tutti i giorni. Tra le berline o crossover, la Peugeot 408 offre tanto spazio interno nel bagagliaio ed è stata concepita per lunghi viaggi in famiglia. Diversi motori proposti, ma nessun diesel. Si va da un tre cilindri 1.3 PureTech da 130 cavalli al librido plug-in da 180 o 225 cavalli, che abbina al 1.6 turbo benzina. Tutti i motori saranno abbinati al cambio automatico. Più avanti arriverà anche la versione completamente elettrica. Tre, gli allestimenti disponibili, con un prezzo di partenza di circa 35.000 euro. Se invece volete una coupé, è finalmente pronta anche la Maserati Gran Turismo Folgore. A spingerla non uno, non due, ma ben tre motori elettrici da 300 kWh ciascuno, per una potenza teorica di 1.224 cavalli, che nella realtà scende a 760. Le prestazioni sono quindi da supertridente. 0-100 km orari in 2,7 secondi e 320 km orari di velocità massima. Lunga 4,96 metri, larga 1,96, per tutti esclusi, e alta 1,35, la nuova Maserati Gran Turismo ripropone la silhouette del precedente modello, abitacolo in posizione arretrata e qualche richiamo alla MC20. E il SUV? Nel 2023 ne arriva uno tutto nuovo da 7 posti con oltre 600 km di autonomia. È il Volvo AX90 con trazione integrale bimotore alimentato da una batteria da 111 kWh e da due motori elettrici a magneti permanenti per 517 cavalli di potenza e 910 Nm di coppia. Tra le peculiarità della nuova Volvo, i tempi di ricarica, si arriva all'80% in meno di 30 minuti. Ma la AX90 compie un ulteriore passo in avanti. È infatti abilitata alla ricarica bidirezionale, si può quindi utilizzare la batteria dell'auto come fonte di energia per alimentare la casa, altri dispositivi elettrici o un'altra auto. E le tedesche? Tra le tante novità spicca la Mercedes AMG C63 SE Performance con un motore da 680 cavalli, 1020 Nm di coppia e lo 0-100 in 3,4 secondi. Il tutto grazie a un motore 4 cilindri da appena 2 litri di cilindrata da 476 cavalli e un pacchetto elettrico che fa il resto. La batteria è di derivazione Formula 1 con un peso di 89 chili e una capacità di 6,1 kilowattora. Puro divertimento. Same altitude, same attitude. È il claim con cui Mercedes-Benz Italia inaugura una nuova stagione invernale sulle vette delle Dolomiti. Anche per il 2023 si conferma la partnership con il comprensorio sciistico di Plan de Corones, estesa anche all'Human Museum, un polo museale unico al mondo dedicato ai ricordi della montagna. Una sinergia che nasce da valori comuni come la cura del territorio, l'ecosostenibilità, ma anche dalla passione per l'adrenalina e le performance. Protagoniste della stagione nel cuore dell'Alto Adige saranno Mercedes AMG e Mercedes EQ, due diverse espressioni del lusso della stella, tra prestazioni e sostenibilità. Inoltre per la prima volta la presenza del marchio nel territorio si estende anche al rifugio Emilio Comici, in perfetta sintonia con i valori di Mercedes EQ, il sub-brand di prodotti e servizi full electric della casa di Stoccarda. Già lo scorso anno, oltre alle numerose attività durante la stagione sciistica, Mercedes-Benz Italia ha offerto agli ospiti del comprensorio di Plan de Corones l'opportunità di scoprire il fascino e la cultura del territorio attraverso un fitto calendario di tour a bordo della gamma SUV della stella. I sensori sono ovunque e permettono ad automobili, i bike, smartphone, fitness tracker e cuffie auricolari di percepire l'ambiente circostante. Bosch sviluppa e produce sensori smart che aumentano la sicurezza del comfort. Tutti questi sensori stanno diventando sempre più efficienti. Al Consumer Electronics Show 2023 di Las Vegas, Bosch ha presentato le innovazioni per la mobilità basate proprio sui sensori, tra cui RideCare che ha ottenuto il premio Best of Innovation dall'associazione di settore CTA. RideCare svolgerà un ruolo fondamentale nella sicurezza di tutti gli occupanti dei veicoli nella mobilità connessa e autonoma. È una soluzione hardware e software connessa, composta da una videocamera, un pulsante SOS wireless e i servizi di dati basati su cloud. I conducenti possono usarla per contattare gli operatori Bosch 24 ore su 24 in caso di incidente o di una situazione di pericolo. In caso di incidente, l'operatore può vedere all'interno dell'abitacolo tramite videocamera, valutare la situazione e, se necessario, richiedere assistenza rapidamente. Il sistema RideCare funge da rete di sicurezza, specialmente per i conducenti di taxi o per il ride sharing. Bosch ha anche svelato in anteprima la tecnologia per un nuovo microfono esterno basato sui sensori e consente ai veicoli autonomi di riconoscere i segnali acustici e i comandi vocali. Del resto, per sostituire le persone al volante, le auto non devono solo essere in grado di vedere ma anche di sentire. Per esempio, il microfono esterno può rilevare la direzione da cui proviene la sirena di un'ambulanza in avvicinamento e iniziare la manovra di guida appropriata. Il microfono è specificamente destinato all'uso esterno dei veicoli. Per questo Bosch lo progetterà in modo che sia resistente alle condizioni ambientali avverse come pioggia e neve.